Barra inversa. Direttamente dalle Maldive, dove è in vacanza con il compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice. Federica Nargi è tornata a deliziare i suoi follower su Instagram con scatti sensuali in bikini. Non così sexy, però, come vorrebbe qualcuno. Ma il lato bi come mai non ce lo fai più vedere? Ha infatti chiesto un utente. Non è tardata ad arrivare la replica dell'ex velina di Striscia la notizia. Che ha lasciato tutti di stucco e raccolto decine e decine di like, non è più quello di una volta. Federica Nargi ha cellulite e smagliature Un'altra fan ha invece notato che nelle ultime immagini si notano delle piccolissime smagliature, se la Nargi ha le smagliature c'è speranza per tutti. Particolare confermato dalla stessa Subret classe 1990 che ha ribadito che la perfezione non esiste, smagliature e cellulite. Sono umana anche io. Un altro fan ha invece preso la pala al balzo per mandare un monito a tutte le influencer, dovreste mostrarvi perciò che siete veramente e normalizzare tutto. Basta con filtri e kate varie che fanno passare messaggi non veritieri. Virgola. Grazie. Grazie. Grazie.